Mille medici in protesta all'esterno del Policlinico di Bari, difendi la tua salute e il Servizio Sanitario Nazionale, difendi il tuo medico di medicina generale, è stato lo slogan della manifestazione iniziata in Piazza Giulio Cesare. A scendere per le strade diversi ordini dei medici del territorio è la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Il corteo che ha visto sfilare mille camici bianchi si è fermato davanti all'hotel Excelsior di via Giulio Petroni, dove si è tenuta l'assemblea in cui medici di famiglia, personale del 118 e della continuità assistenziale hanno puntato il dito contro l'aumento esponenziale della burocrazia che sottrae tempo alla cura dei pazienti e dequalifica l'esercizio della professione. Denunciato anche l'aumento dei carichi di lavoro dovuto all'invecchiamento della popolazione, la crescita dell'aggressione e danni del personale sanitario e la carenza di medici, frutto, spiegano i sanitari, di un'errata programmazione nazionale e regionale.